Grazie a tutti. L'esperienza me la sto facendo piano piano perché siamo in un campo totalmente nuovo. Voglio fare un appunto sulla parola innovazione che diceva lui e secondo me poi molta gente si nasconde dietro chissà quale marchigennio, però spesso l'innovazione è proprio lì dietro l'angolo perché è la semplicità nel fare le cose. Cioè può essere anche l'approccio alla vita di tutti i giorni che potrebbe veramente essere spogliato di un sacco di dogmi e di cose che ti impediscono di pensare liberamente. Ho iniziato il mio progetto di co-working nel 2008 quando appunto ero diciamo fresco di master, ho fatto un master in progettazione e gestione di eventi all'OIED e avevo appena partorito una campagna pubblicitaria per la Nokia e non avevo preso neanche una lira da questa società. Allora ho deciso di, ho detto sai che c'è, mi sa che qua qualche idea buona ce l'ho. Allora mi sono messo in testa di crearmi la mia società, la prima SRL all'età di 26 anni e eravamo io e l'altro socio in due persone, lui si occupava della progettazione di siti internet e io facevo un po' di breccia nel senso andavo a fare legna. Quindi cercavo clienti e cercavo situazioni dove si potesse creare lavoro appunto, però eravamo solamente due persone. Quindi l'esigenza qual era? Era avere dei collaboratori, quindi dei grafici, degli sviluppatori e non avere comunque il peso dell'assunzione perché una start up si sa che si sa quanto parte ma non si sa se arriva e quando arriva. Quindi a me non è mai piaciuto fare il passo più lungo della gamba e neanche comunque sia utilizzare i soldi che non sono miei. Quindi abbiamo fatto tutto da noi piano piano e abbiamo deciso di iniziare a lavorare dentro casa. Abitavo a Piazza Bologna, era l'estate del 2008 e lì a un certo punto eravamo sette persone. Una domenica ci siamo trovati in 15 persone fuori al giardino e allora ho detto sai che c'è, facciamo una cosa. Io mi butto avanti, prendo uno spazio abbastanza grande e lì dentro poi ci mettiamo tutti quanti noi. Dopo tra le varie euforie ho visto online che tutto ciò si chiamava, aveva un nome ed era il co-working. Ho fatto questo co-working, mi sa che è proprio quello che mi piace fare. Allora ho iniziato a girare e vedere delle strutture di co-working all'estero, anche negli Stati Uniti. mi sono spinto proprio per vedere effettivamente come funziona da vicino perché poi è molto bello rifare delle attività che funzionano all'estero ma è bello vedere prima come funzionano, non leggere su Wikipedia che cosa fanno e quindi poi avventurarsi perché se no si cade in errore. Allora ho preso la prima struttura all'anificio Lanciani sopra Pietralata e la prima esperienza è stata un fallimento. Un fallimento all'età di 26 anni è una bella botta, nel senso non è un fallimento per causa mia ma a causa di squali perché avevo il proprietario dello stabile che a cinque giorni prima di aprire, dopo che avevo fatto un anno di ristrutturazione, viene e mi dice, ho capito che sto co-working, tu qua mi porti un bordello di gente. Al che mi presenta un altro contratto e mi chiede 800 euro in più sull'affitto. Io per scire da quella situazione ci ho messo otto mesi. Ci ho messo otto mesi e immaginate poi tornare a casa, io vengo dall'Abruzzo, sono di Pacentro, un paese vicino a Sulmona, tornare a casa e cercare di spiegare ai genitori che lavoro stai facendo, mi occupo di co-working. Quindi la mia è stata proprio un'esperienza da pioniero perché poi cercavo di darmi ragione da solo, per un periodo sono tornato in Abruzzo e sentivo i consigli dei genitori, che facciamo, vuoi lavorare, vuoi fare un ristorante, vuoi fare una cosa del genere? Ha fatto, io faccio il co-working perché questo qui è il futuro, ma non te lo dico io, lo dirà la società fra qualche anno, perché oggigiorno secondo me è impossibile non condividere, non stare a contatto con le altre persone. Circa 12 anni fa con il telelavoro ci hanno fatto credere di lavorare da casa e avere tutto lì, ci vogliono far sparire le piazze, hanno messo i forum al posto delle piazze e poi tutti quando a casa arriva ti arriva il cibo, a casa fai questo, a casa fai quest'altro. Invece poi le persone hanno avuto proprio la necessità di incontrarsi, la necessità, l'empatia, noi abbiamo bisogno di stare a contatto proprio per generare dei frutti. Anche le piante stesse, se una pianta si sta a fianco alla pianta malata, si ammala anche lei a vederla, quindi è una società condizionata. A quel punto sono tornato a Roma e ho iniziato a bussare porta a porta, volevo uno spazio, volevo uno spazio per iniziare il mio progetto, ma senza investire denaro, solamente i soldi che man mano guadagnavo, perché nel frattempo continuavamo a fare dei servizi di comunicazione alle aziende. Arrivo un giorno a via di Portonaccio, vedo questa struttura a ferro di cavallo, e dico, questo sarebbe proprio il posto ideale per la mia attività. Ci sono arrivati in due minuti da Tiburtina, dall'università ho preso il 5,45, ho fatto tutte le prove, ho detto adesso vediamo se c'è posto. Entro dentro, busso, e la prima disponibilità che mi hanno dato era di due stanze. Avevo due stanze di circa 48 metri quadri in totale e un bagno. Ci siamo messi lì a lavorare, dopo neanche tre mesi ho preso 140 metri quadri e mi sono dato un obiettivo, mi sono dato tre obiettivi. Il primo obiettivo era abbattere i costi fissi, perché la prima cosa era quella, abbattere i costi fissi e lavorare, iniziare a poter portare dei clienti in un ufficio, diciamo, un ufficio, prego, si accomodi, invece di andare in un bar e incontrare, che ne so, ma anche clienti che potenzialmente potrebbero svoltare la tua vita professionale. E allora l'altro obiettivo era quello di, il primo era abbattere i costi fissi, il secondo era quello di sviluppare dei progetti in sinergia, che ne so, gli e te siamo vicini insieme a lui, facciamo un progetto insieme ed invitiamo delle persone al progetto che noi abbiamo fatto. E' andata benissimo, facevamo un open day, eravamo 20 ragazzi, dopo di quello ho detto, vediamo se questa idea lavora in business, vediamo se da tutto ciò io posso creare un modello di business. Per fare questo, ovviamente senza rischiare molto, ho iniziato a instaurare dei rapporti sempre più, andavo a cena tutte le sere dalla proprietaria dell'immobile, cioè proprio, ve lo dico chiaramente, quindi sono stato lì e ho cominciato a prendere confidenza con queste persone, ho iniziato a ragionare veramente da, diciamo, da imprenditore per le prime volte, al che ho chiesto alla proprietaria di darmi altri 200 metri quadri. La proprietaria, dopo qualche settimana, mi chiama e dice sei fortunato perché se ne sono liberati 300. Ho detto, io ma che faccio? 200 metri quadri? Ok, vanno bene, 300 non lo so che può succedere. E invece, durante quell'estate, ho preso quei 300 metri quadri e ho chiamato diverse persone che avevano bisogno di uno studio e gli ho detto, vi piacerebbe avere uno studio a settembre, ve lo faccio pagare 300 euro se vi venite e ve lo pittate e ve lo aggiustate. Quindi anche su ciò che riguardava la ristrutturazione, perché uno appena arriva in un posto e dice, ah no, qui dobbiamo ristrutturare e così via, abbiamo venduto la pelle dell'orso prima di ammazzarlo. Quindi abbiamo venduto proprio dei momenti in cui la gente veniva lì, si portava la cassetta di birra e la cosa e si metteva a pittare, bello, questo è lo studio. Cioè, questa cosa mi ha fatto capire, quasi può fare di tutto. Cioè, se effettivamente la gente inizia a pensare in questa maniera, a collaborare, dice, io in questo momento non ho i soldi, però c'ho la mia competenza, la mia competenza vale tanto, ma è un valore che si riconosce perché ognuno di noi ha bisogno di altre persone. Al che, ho continuato ad allargarmi, adesso siamo arrivati a 650 metri di co-working su Via di Portonaccio, una community ben solida, probabilmente la più grande del centro-sud, siamo 58 residenti, poi ci sono altre 20 persone che vengono in maniera saltuaria, nella nostra offerta sono uffici, postazioni in ambiente condiviso, sale e riunioni, sala per eventi, domiciliazione postale, quindi con tutti questi servizi abbiamo creato un'economia, abbiamo creato un'economia che oggi ci permette sia di stare in piedi che sia di andare avanti con i nostri investimenti. A maggio dell'anno scorso abbiamo iniziato, diciamo, a parlare di stampanti 3D, di innovazione tecnologica legata alle piccole schede hardware, come Arduino, Raspberry e così via, al mese di giugno facciamo una serie di workshop, 10 workshop che hanno portato in circa 250 persone su Via di Portonaccio, anche io ho detto, ah, mi sa che qui tocca investirci su questa cosa, mi sono messo a fare il giro di tutto il quartiere e bussando, 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 ho trovato un altro stabile, un altro stabile di circa 500 metri quadri, suddiviso in due livelli, perché la prima cosa che ho pensato avrei bisogno di uno spazio dove lavorare con le stampanti e tutto ciò che è la fabbricazione digitale e un altro dove comunque martellare, perché la nostra community è composta soprattutto da gente che lavora nel design, dell'interaction design, ragazzi che fanno videomapping, chi lavora nel campo della moda, per cui era comunque attinente a tutto questo e avevamo bisogno però di uno spazio per fare le lavorazioni. Abbiamo preso lo spazio al mese di novembre e poi a gennaio insomma si siamo messi dentro fino a fine marzo abbiamo, diciamo, aperto un po', però ancora oggi abbiamo molte situazioni bloccate, ma il laboratorio è attivo per, diciamo, i tre quarti. La nostra struttura, appunto, come ricordava anche Stefano, è un po' più volta al business, nel senso che noi lavoriamo conto terzi, quindi il mio ruolo è quello di cercare dei clienti che portino il lavoro all'interno della struttura e poi smisto il lavoro tra magari sia i ragazzi che possono farlo o comunque sia lo facciamo proprio direttamente noi. Abbiamo delle macchine che ci permettono di lavorare meglio, come il taglio laser, prima parlavamo di quali sono le macchine fondamentali per me il taglio laser è una cosa che veramente mi ha cambiato la vita perché comunque ti porta un sacco di lavoro, c'è molta richiesta, non solo da parte di artisti, appunto, ma proprio di tecnici, proprio di tecnici, di architetti e quindi già con quello lì noi abbiamo un modello di business sul Fab Lab che in pratica abbattiamo i costi fissi con l'affitto di postazioni per artigiani perché io vengo da una famiglia artigiana, mia madre è stata in terracotta da due generazioni, per cui tutto quello che noi abbiamo di buono volevo fosse contaminato con questa tecnologia. C'è Patrizia, una ragazza che ha un torchio calcografico, una tecnica antica quasi 300 anni, adesso in pratica lei è entrata lì che utilizzava il torchio, adesso si fa le dime tagliate al laser e poi se le porta sul torchio, quindi si può portare un file in vettoriale su una cosa che prima faceva con l'acqua e i forti, cioè nel senso che vogliamo anche innovare i settori tradizionali. Ad oggi ci sono all'interno della struttura circa 20 ragazzi e poi c'è comunque un pubblico di una media, non vi dico tanto, verranno dalle 10 alle 15 persone giornalmente chi viene lì magari per chiederci una stampa, chi per capire com'è, e io dico sempre tre cose, cioè nel senso per venire da noi ci sono tre motivi, la prima volta viene a visitare, fai lo zoo, come diceva, viene a visitare lo spazio, vedi se ti piace e così via, la seconda volta devi venire a lavorare, perché se vuoi vedere qualcuno vai al bar, ti fai una chiacchiera lì, cioè da noi devi venire e vieni a lavorare, a fare qualcosa, un progetto, l'altra maniera per venire è durante gli eventi di networking, che per noi sono fondamentali, nel senso noi non investiamo su comunicazione, perché dall'inizio ho sempre fatto un sano passaparola, perché la parola di una persona che visita un posto, e ha un'esperienza all'interno di un posto, non ha pubblicità che regga, per cui il nome è andato avanti, è andato avanti, adesso abbiamo la soddisfazione di ricevere clienti dall'estero, noi ci chiamano, adesso sono tre settimane di fila, che ci chiama gente per affittare magari una postazione di co-working, dalle Filippine, viene a Roma e avete un co-working, questo per me è una grandissima soddisfazione, per il semplice motivo, che prima abbiamo voluto fare un lavoro sui freelance, quindi abbiamo preso la gente all'orecchio per casa, per dire che stai a fare a casa, vieni qua a lavorare, tu magari i primi due mesi non mi dai una lira, al terzo mese mi paghi sia il vecchio che il nuovo, quindi diciamo, quello proprio del Fab Lab, per noi è stato proprio un co-working 2.0, un punto di atterraggio proprio necessario, necessario per sviluppare tutta un'altra serie di attività che adesso stiamo facendo, fortunatamente abbiamo abbattuto i costi in maniera proprio come un lampo e adesso ci possiamo permettere l'ammortamento dei macchinari già con i lavori che facciamo, quindi ad oggi siamo a pari con gli investimenti, abbiamo fatto comunque degli investimenti, circa 35 mila euro, tra affitti e macchinari, macchinari e poi io per i macchinari faccio un lavoro molto particolare, nel senso che busso a tutte le porte e vado alla ricerca non tanto dei fallimenti, ma delle aziende con grande fatturato, perché loro sicuramente cambiano il parco macchina, quindi anziché andare a vedere quelli che magari a trovare i fallimenti, a fare l'avvoltoio sul fallimento, preferisco prima a vedere quelli che devono cambiare il parco macchine, che ce ne sono tantissimi in giro e hanno dei bellissimi laser, superman in utenzione, hanno delle bellissime frese e così via, l'Italia è piena di macchine, l'Italia è piena piena piena, alla fine del mio lavoro, che penso non finirà mai, però da qui a qualche mese vorrei pubblicare proprio una lista di attrezzature e di metodi per aprire un Fab Lab con 20 mila euro e non mettendo paura, come si fa su internet, che costa 100 mila euro farsi un Fab Lab o roba del genere. Io quindi voglio incoraggiare i ragazzi ad attrezzarsi, a riunirsi in delle community, se loro non trovano posto nelle altre, di attrezzarsi, di creare tanti nuclei, cioè far partire tante iniziative, perché poi effettivamente, stando insieme, si aumenta la flessibilità, ma in maniera positiva, perché sono tante le persone che hanno anche cambiato il lavoro e il loro modo di lavorare.